Firmata una convenzione tra il Rettore Unimc Luigi Lacchè e il Presidente della Camera di Commercio Giuliano Bianchi, con la quale i due enti maceratesi si uniscono in un progetto comune a sostegno dei giovani. Sia l'Università di Macerata che la Camera di Commercio da anni operano attraverso dei progetti che servono per avvicinare i giovani soprattutto all'imprenditorialità, quindi all'innovazione, alla creatività. E quindi dal prossimo anno avremo una classe più grande, più numerosa delle attività in comune e tra l'altro questo per noi è molto positivo perché abbiamo visto che questo incontro proprio operativo, concreto, tra i giovani, i ragazzi delle scuole superiori e i ragazzi universitari funziona moltissimo perché ognuno trae dagli altri elementi, stimoli e quindi per noi è anche uno sperimento che siamo sicuri potrà raggiungere degli ottimi risultati. L'accordo dunque prevede che 60 studenti selezionati dalle superiori partecipino a parte del percorso formativo del Luci, volto a dare strumenti e formazione per affrontare il mondo imprenditoriale e coadiuvati da tutor messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Sostanzialmente siamo accorti che questi due progetti erano sovrapponibili e quindi abbiamo deciso come è bene cominciare a fare, a tanto tempo che lo ripetiamo, di lavorare insieme. Quindi c'è un ruolo della Camera di Commercio anche nella selezione di 60 studenti che porteremo poi al corso, c'è un ruolo della Camera di Commercio di esperienze passate, c'è un ruolo importantissimo dal punto di vista professionale dell'università con i propri docenti. E quindi insieme cerchiamo di migliorare due progetti che alla fine diventano uno, risparmiamo tempo e denaro e mettiamo insieme intelligenze diverse. Per dei buoni risultati ci auguriamo per questi studenti.